Fedez ha fatto un freestyle shock Forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler Sono volate frecciatine per il Kodakons e per un politico Ciao Kodakons, guarda come mi diverto La canzone di Rosa Chemical fa discutere Il festival della canzone rischia di diventare l'ennesimo spot in favore del gender Angelo Duro è rimasto in mutande Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato a Sanremo 2023 Fedez ha fatto un freestyle shock Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto Gossip, drama e ovviamente il meglio, forse anche il peggio di Sanremo 2023 Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video dedicato al Festival di Sanremo 2023 Nuove polemiche che ovviamente devo raccontarvi La primissima serata è andata in onda, l'abbiamo commentata ampiamente con lo scandalo degli scandali Quello ovviamente di Blanco che ha spaccato tutto il palco E se vi siete persi quel video, perché ne abbiamo parlato ampiamente, ve lo lascio qui nella i di informazioni Ma c'è un ma grande quanto una casa come sempre Perché ci sarà un ennesimo video dedicato allo scandalo di Blanco Perché ci sono delle novità alquanto scioccanti Ma adesso andiamo con ordine e ovviamente è andata in onda La seconda serata del Festival di Sanremo È stato un grandissimo successo Anche perché esattamente come la prima serata del Festival Ha ottenuto il 62% di share Un vero successo, oltre 10 milioni di telespettatori E sto cane continua a bagliare e basta Voi dovete sapere che io registro i video con i cani in sottofondo che ne faccio più veramente E con i trapani Perché dovete sapere che è da un anno che fanno le facciate delle case di fianco E io sto letteralmente impazzendo Quindi o mi fate un TSO o non lo so io Vi dicevo, grandissimo successo anche questa seconda serata del Festival Davvero ascolti stellari Dal 95 non si vedevano questi dati Cioè è davvero incredibile Ma Amadeus è in grado di fare anche questo Anche perché tantissime persone giovani come noi Come voi che mi state guardando Insomma siamo ormai attaccati al Festival Io lo sono sempre stato Ma in questi ultimi anni è veramente bello vedere come tutta Tutta la nostra generazione, anche quelli più piccoli Guardano il Festival veramente con piacere Ma andiamo con ordine Come vi dicevo c'è stata la seconda serata Che si è aperta, fatemelo dire, in maniera magistrale Questo trio, il potere del trio coincide col mio Albano, Morandi e Ranieri Queste tre colonne portanti della musica italiana Ci hanno fatto cantare, ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto emozionare Cioè ragazzi io in perdere l'amore ho perso le corde vocali E manco te lo sto a dire Ovviamente la parte più bella credo che sia stata poi Cioè quella delle flessioni fatte da Albano Per festeggiare i suoi 80 anni Lui ragazzi mi ricorda uno dei miei zii Che anche lui canta, fa queste cose qui E al bacio proprio Cioè queste generazioni non ci saranno mai più Cioè io a 80 anni mi butterò a terra Se ci sarò ancora Ma di certo non farò le flessioni Manco le faccio ora, figurati a 80 anni Comunque andiamo avanti Perché oltre a questa bellissima pagina di musica italiana C'è spazio ovviamente anche per gli altri 14 cantanti in gara Devo ammettere che la classifica mi ha un po' sorpreso Infatti adesso la andremo a leggere punto per punto Al primo posto abbiamo Con la pesce di Martino Madame, Tananai, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical Paola e Chiara, Levante, Articolo 31, Modà, LDA, Will, Shari e Se Tu Insomma ragazzi Questa è la classifica Ma adesso andiamo a vedere la classifica generale Perché questa è una cosa importante Primo posto Marco Mengoni Con la pesce di Martino Madame, Tananai, Elodie, Comacose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical Ultimo, Leo Gasman, Mara Sattei Con l'azio, Paola e Chiara, Cugini di Campagna, Levante, Mr. Rain, Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà, Gian Maria, Olli, LDA, Will, Anna Ox, Shari e Se Tu Quindi insomma ragazzi Questa è la classifica generale Ma adesso andiamo a commentare giusto le persone che mi hanno dato un qualcosa da commentare Partiamo da uno dei nomi insomma ragazzi più importanti di questo festival Giorgia Vinto nel 95 con Come saprei Amarti io Insomma ragazzi bellissima quella canzone ma anche di solito azzurro Cioè infatti io non vedo l'ora della serata delle cover per sentirla Ma Giorgia Cara mia Bellissima voce Ma credo che questa canzone non almeno al primo ascolto non mi ha impressionato più di tanto Cioè non mi ha entusiasmato più di tanto Non so voi ma insomma fatemelo sapere Ma adesso andiamo avanti Levante Levante è una di quelle persone che io volevo proprio vedere a questo festival Perché dopo il 2020 con quella canzone abbastanza carina Mi aspettavo qualcosa La canzone devo ammettere che non mi ha entusiasmato neanche la sua Ma la prima cosa cioè appena io l'ho visto ho detto ma che è successo Cioè che ha passato Jeffree Star Cioè non so voi ma a me ha ricordato il suo look Jeffree Star Sapete chi è? Youtuber americano, imprenditore oltretutto Cioè insomma una vera colonna portante dei social in America Ecco mi è sembrata un po' la copia di Jeffree Star Questo è il mio pensiero Poi chi c'è? Beh ovviamente le persone proprio al bacio proprio Lazza la sua canzone mi piace tantissimo Paola e Chiara Cioè ragazzi ovviamente Paola e Chiara Che fai te ne privi Icone gay assolute ma soprattutto icone del pop anni 2000 italiano Con la loro furore veramente mi hanno fatto emozionare Perché hanno vinto tutto Cioè hanno capito ci hanno dato da mangiare per tutta questa seconda serata Perché intanto poverine si sono esibite per ultime Cioè adesso anche basta no? A luna delle notte a cantare furore Una canzone che con un ritmo che ti entra dentro veramente E devo ammettere che che bel vedere i loro sei manzi ballerini dietro Beh diciamolo anche perché io mi vedo già in discoteca a ballarla con i cubisti Giustamente che ti accerchiano Loro regine indiscusse di questa seconda serata Perché oltre al loro look che mi ha ricordato un po' Parte Edward Cullen con questi brillantini in faccia Ma mi ha ricordato anche il loro look L'alieno di avanti un altro Cioè ogni anno c'è qualcuno che sembra l'alieno di avanti un altro Questa volta è toccata a loro E devo ammettere che la canzone in radio secondo me renderà ancora di più Anche se si è piazzata abbastanza bene nella classifica del festival Ma adesso parliamo di Rosa Chemical Con la sua Made in Italy ha fatto largamente discutere Primo tra tutti a creare una vera e propria polemica Che è finita addirittura al Parlamento Per una deputata di Fratelli d'Italia Parliamo infatti di Maddalena Morgante Che prima del festival Prima di ascoltare la canzone di Rosa Chemical Beh ha un po' storto il naso Ho detto no ma che cos'è questa roba gender fluid Anche no Vi cito un post degli amici di Webbo.it Che riprendendo le parole della deputata di Fratelli d'Italia Scrivono Proteggiamo i bambini da Rosa Chemical Un politico critica la presenza di Rosa Chemical Al festival di Sanremo Trasformarlo in uno spot della sessualità fluida È inaccettabile Proteggiamo i nostri bambini E ovviamente leggiamo questo Perché la deputata dice La rivoluzione fluida era già da tempo sul palco dell'Ariston Ma trasformare Sanremo nell'appuntamento più gender fluid di sempre È del tutto inopportuno La tv rimane il principale mezzo di informazione E i minori sono la fascia principale di ascoltatori Il festival della canzone rischia di diventare l'ennesimo spot del gender fluid E della sessualità fluida Propaganda della peggiore ideologia che vuole minare l'identità dell'uomo e della donna E della dissacrazione dei simboli religiosi Proteggiamo i nostri bambini Non è accettabile Queste sono le parole della deputata Morgante di Fratelli d'Italia Come commentarle? Beh, ricordando alla deputata che l'Italia è una repubblica democratica laica Quindi dire, oh mio Dio, si vanno ad attaccare i simboli religiosi Nel nostro paese non contano assolutamente nulla Tutto il rispetto per chi crede Ma il nostro stato è laico Quindi giusto ricordiamo questa cosa alla parte più conservatrice del nostro paese E ricordiamo anche una cosa E qua cito anche Amadeus Che ha risposto a questo aberrante discorso sul gender fluid Sulla fluidità Ma poi io credo anche che questa deputata forse non conosca effettivamente Che cosa sia il gender fluid e la fluidità Ma a dettagli Comunque Amadeus dice Beh, io non ci vedo nulla di male L'amore a 360 gradi Questo è quello che insegno a miei figli E soprattutto i bambini devono conoscere Cioè, ricordiamoci una cosa Che per non avere vittime di bullismo Per quanto riguarda l'omofobia, la transfobia, eccetera, eccetera Serve la conoscenza Quando una persona ha paura Si comporta male, giusto? Se io ho paura del diverso Con il diverso mi comporto male Lo emargino O semplicemente non lo prendo in considerazione Se invece conosco La conoscenza porta anche all'accoglienza Questo è quello che penso io Quindi se vogliamo che le nuove generazioni sappiano E abbiano più rispetto per l'altro Forse dobbiamo iniziare a parlare anche Delle mille mila sfaccettature dell'essere umano Ed io non ci vedo nulla di male nel vedere un cantante Che ha le unghie Che si trucca o che si veste da donna Anche se è un uomo Sul palco dell'Ariston Dove sta il problema? Dobbiamo proteggere i bambini esattamente da che cosa? Quello che non capisco è veramente questo Come può un cantante ad esempio Sul palco di Sanremo Mettere in pericolo dei bambini Questo mi sfugge veramente Forse il vero problema sono i genitori di questi bambini Che appunto non vogliono che i loro figli Conoscano la realtà attorno a loro E questo penso che sia il problema più grande Quello che ha detto anche Amadeus Forse il vero problema sono i genitori Di tutta risposta Rosa Chemical Ha deciso di ricondividere La foto della deputata di Fratelli d'Italia Scritto Made in Italy Quindi io credo che Ah poi ovviamente sul palco dell'Ariston Ha ringraziato Amadeus Per aver speso delle bellissime parole Nei suoi confronti E per averlo difeso Da questi attacchi Che arrivavano direttamente dal Parlamento Detto questo Parlando sempre di politica Parlando sempre di polemiche anche Dobbiamo ovviamente parlare dell'ospitata Sulla nave da crociera di Fedez Che si è lasciato andare ad un bellissimo freestyle Che ha già fatto breccia nel cuore di tantissime persone Parliamo del suo freestyle Fatto in collaborazione con Salmo Perché appunto è una sorta di invettiva È una sorta di invettiva È una sorta di denuncia sociale Fedez ha anche detto Dopo essersi appunto esibito Che si avvaleva Dell'articolo 21 della Costituzione Citato da Benigni anche nella prima serata Che riguarda la libertà d'espressione Questo testo che lui ha cantato E che ha detto Durante il festival di Sanremo Non era stato approvato Un po' come era successo Sul Rai 3 Per quanto riguarda Il concertone del primo maggio Vi ricordate? Fedez non doveva dire determinate cose E qua è successa più o meno la stessa cosa Ma devo ammettere che non c'è stata alcun tipo di censura Perché parliamo di censura? Perché doveva essere scomoda in un certo senso Questa prima parte Di freestyle di Fedez È molto semplice la spiegazione Sostanzialmente Fedez ad un certo punto La parte più interessante Vabbè ha citato Matteo Messina Denaro Ma dettagli La cosa più eclatante È stato presentarsi con una foto Del vice ministro Bignami Delle infrastrutture e dei trasporti Credo che sia stato nominato da Salvini Se non mi sbaglio Quindi parliamo sempre di politica di destra A quanto pare E che cosa succede? Succede che ha mostrato una foto Di questo vice ministro Che indossava un uniforme nazista Con tanto di svastica sul braccio Questa foto non è stata neanche poi così tanto inquadrata Effettivamente E che cosa succede? Lui sostanzialmente Fedez ha paragonato La polemica di Rosa Chemical Che non può esibirsi all'Ariston Perché è gender fluid Blah 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 Ma un vice ministro dei trasporti e delle infrastrutture Si è potuto vestire invece da nazista Quando aveva 30 anni mi pare E nessuno dice nulla Questo è quello che dice Fedez Ma ovviamente siccome non si è vista benissimo questa immagine Per quanto riguarda le telecamere di Sanremo 2023 Fedez ha deciso di mostrarla nella sua totalità su Instagram Mi ha detto questa era la foto che ho fatto vedere Che ha strappato Quindi questo politico è finito ovviamente al centro di un'ennesima polemica E arrivati a questo punto ci chiediamo Questo politico ha mai risposto? Di certo lo scorso novembre 2022 ha rilasciato un'intervista Che è stata riportata anche e ripostata da Selvaggia Lucarelli Adesso anzi andiamo a leggere proprio che cosa è stato ricondiviso Era il primo novembre 2022 E dice questo Si tratta di una foto scattata in un contesto privato E per la quale mi sono già scusato più volte Per essermi prestato ed essere raffigurato in quel modo che non mi appartiene Provo profonda vergogna per quelle immagini E comprendendone da tempo la gravità Non posso che rinnovare quelle scuse Da quando mi trovo in Fratelli d'Italia Vengono rinfocolate quelle polemiche che generano il dubbio Che esse siano sollevate non per biasimare una condotta individuale Ma per colpire il partito a cui oggi aderisco Quindi sostanzialmente lui dice Mi scuso, mi scuso, mi scuso, mi scuso, mi scuso Per quel travestimento fatto in un contesto privato anni fa Eccetera, eccetera Vabbè Ok, ne prendiamo atto Quindi questo sostanzialmente è per chiudere il cerchio sul viceministro Bignami Una cosa molto interessante invece è stata una sorta di frecciatina che Fedez ha fatto nei confronti del Kodakons Ricorderete benissimo questa rivalità Questo antagonismo tra Fedez e il Kodakons Ecco, il rapper ha dedicato un saluto proprio ai suoi amici del Kodakons Guardate Ciao Kodakons, guarda come mi diverto E a grandissima sorpresa il Kodakons ha risposto a Fedez Certo, hanno voluto sottolineare la scarsa qualità della sua musica Però devo ammettere che lo hanno ringraziato Cosa sta succedendo nel nostro mondo non lo so Fatto sta che c'è scritto questo trash italiano Il Kodakons ringrazia Fedez Ha dato spazio ai consumatori Infatti dice questo Il Kodakons promuove l'intervento del rapper durante la puntata di ieri del Festival di Sanremo Al di là della scarsa qualità musicale La canzone di Fedez ci è piaciuta Vogliamo ringraziarlo per aver portato un'associazione dei consumatori al centro del Festival Dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti Quanto agli attacchi alle critiche politiche contenute nell'intervento di Fedez Riteniamo si tratti di espressione della libertà di pensiero Quindi insomma il Kodakons che ringrazia Fedez Ma che sta a succedere? La fine del mondo è vicina ragazzi eh E a rimanere scioccata è stata anche Chiara Ferragni Che sotto il posto di Tresci Italiano Che ha riportato questa notizia del Kodakons che ringrazia Fedez Ha scritto Morta! Cioè anche lei non si aspettava un gesto di questo tipo da parte del Kodakons Ma adesso fermiamoci un attimo per tutte queste polemiche, frecciatine e quant'altro Ed io credo che vada sottolineato il ricordo che proprio Fedez all'interno del suo freestyle ha fatto Nei confronti di Gianluca Vialli Un grande uomo, un grande sportivo che è venuto a mancare proprio qualche tempo fa È stato molto bello fare questo ricordo e vedere soprattutto ricordata una persona come Vialli a Sanremo E anche perché insomma come ha detto Fedez è stata una persona chiave Mentre lui combatteva con il tumore Detto questo io ho veramente tanto di capello a Fedez per tutto ciò che ha fatto Credo che questo freestyle ce lo ricorderemo per molto e molto tempo Detto questo voltiamo pagina e parliamo di comicità L'ospite che a luna di notte si è messo a parlare è stato Angelo Duro Prima però della sua apparizione al festival Ovviamente tanti lo hanno criticato Perché ovviamente ragazzi cioè chiunque va al festival non è indenne da critiche E che cosa succede? Amadeus sapendo che poteva essere un monologo Una partecipazione un po' criticata Ha invitato tutte le persone moraliste a cambiare canale A non guardare il festival e a tornare dopo dieci minuti Così si evitavano il monologo di Angelo Duro Onestamente vi dico quello che penso A parte qualche inciso che mi ha fatto sorridere Tipo datevi fuoco insomma una roba del genere Devo ammettere che mi ha lasciato un po' indifferente Questo intervento da parte appunto di Angelo Duro Tant'è che mi stavo veramente addormentando Ci sta anche che insomma l'una di notte Poi uno sai no questi giorni poi c'è un sonno Però diciamo che non lo so Un discorso boh sei diverso perché non hai i tatuaggi I secondi geni Onestamente non lo so Non so che pensare veramente Mi sono svegliato tutto ad un tratto Perché mi sono ritrovato Angelo Duro in mutande E ho detto che sta succede Ecco quindi mi sono svegliato Dopo due secondi mi sono un attimo riappisolato Perché degno di nota che si è messo in mutande al festival Sì perché dai è stato anche un bel vedere Tutto sommato Fa tutto brodo insomma in questo Sanremo E quindi insomma questo è quello che è successo Angelo Duro ce lo ricorderemo forse perché Se è smutandato quasi al festival Può darsi e ci ha fatto vedere che insomma Gli unici tatuaggi che ha sono i nei Boh ragazzi io penso poi di non averlo seguito benissimo Perché mi sono addormentato Devo dire la sincera verità Però insomma questo è quello che è successo Spendiamo anche due parole sulla co-conduttrice di questa serata Francesca Fagnani La mia amata Belva Amo follemente il suo programma Amo follemente le sue interviste Onestamente in questo festival In questa seconda serata del festival L'ho trovata un po' giù di corda Nel senso che forse il ruolo da co-conduttrice Non era proprio il migliore pensato per Francesca Fagnani Perché l'ho vista un po' chiusa Nel senso che non ha potuto dare il via alle sue domande scomode Io avrei amato follemente la domanda scomoda a tutti i cantanti in gara Certo sarebbe stato ancora più lungo il programma Ma mi sarebbe piaciuto tanto vedere questa cosa Anche perché io la vedevo ragazzi Lei moriva dalla voglia di fare qualche domanda scomoda a qualcuno Cioè ditemi quello che vi pare Ma io questo è quello che ho visto E purtroppo stando alle regole rigide del festival Della scaletta in particolar modo Purtroppo non ha potuto secondo me dare adito a questo suo modo Di intervistare, di incalzare anche gli ospiti Purtroppo non è successo nulla di tutto questo Mi dispiace il suo monologo invece Devo dire che non mi è dispiaciuto Ha riguardato appunto dei ragazzini Dei baby carcerati che lei stessa ha intervistato E ha riportato le loro parole Mi è piaciuto questo discorso quasi in prima persona Come se fosse un dialogo riportato Devo ammettere che è stato comunque Si vede ragazzi Lei è una giornalista, l'inchiesta Quindi che gli è devi di? Quanto meno si è parlato di un argomento Che è quello dei baby carcerati Quindi del carcere minorile Che spesso non vediamo in tv E devo ammettere che è stato molto interessante Ascoltare anche quelle che sono le parole In prima persona Di chi in carcere minorile ci vive Detto questo Ovviamente ragazzi Io aspetto sempre per sempre Belve in prima serata dal 21 febbraio Quindi sarà martedì credo In prima serata Cioè ragazzi Poi si parla di Anna Oxa come ospite Ma di che stiamo a parlare? Arrivati a questo punto però adesso Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Una seconda serata da urlo Per il festival di Sanremo Non vedo l'ora di vedere adesso Questa terza serata Che già dicono che finirà alle 2 di notte Io non ci ha posto fa eh Il video comunque può finire qui E spero tanto che vi sia piaciuto E se è così lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E qui sotto trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video Vero Mark vai Saluta Mark Vabbè ragazzi anche oggi noi ci abbiamo provato Ciao